Va tutto giù 1022 Si è aperto questo Ok E abbiamo questa fettuccia che è bella larga Se qui avessimo della fettuccia in Deinema stretta Probabilmente va a schiacciarsi e salta Ma non perché la fettuccia è baccata Perché è un uso non corretto della fettuccia Qui quando fate questo lavoro Qua voi dovreste mettere La cosa migliore è un anello di mezza coda Mezza coda Perché la mezza coda è dinamica e abbassa i bambini Ok?